Il catanese Domenico Cubeda si aggiudica la 55esima edizione della cronoscalata svolta di Popoli. L'alfiere della Cubeda Corse ha conquistato l'alloro dopo due salite di gara in costante vantaggio sul diretto avversario Denny Zardo con un distacco complessivo di 2 secondi e 3. Siamo presentati con la prima mancia di gara, eravamo solo a mezzo secondo di distacco e non ero comunque soddisfatto del mio tempo, quindi con il mio team pago 74 corse abbiamo riflettuto un po' e abbiamo fatto una manovra che pensavamo e in effetti è andata a buon fine perché ci giocavamo la vittoria assoluta nella seconda mancia. L'ho data tutta, me lo sono potuto permettere di portare la macchina dove volevo, ho fatto un 0-6, ho distaccato di un paio di secondi Zardo e ho vinto la gara. Per Domenico Cubeda si tratta della terza vittoria alla cronoscalata svolta di Popoli. Ho rispettato il detto non c'è due senza tre, perciò non mi potete dire nulla, non mi potete dare rimprovere. Il tempo di quest'anno è stato 3-0-6, il mio miglior tempo personale, anche se il 0-7 dell'anno scorso è il record delle 2000. Terzo assoluto ancora un siciliano, il traparese Francesco Conticelli che ha preceduto il padre Vincenzo, quinto classificato il trentino Giancarlo Graziosi, presente anche il pilota donna Rachele Somaschini, intervenuta per una giusta causa. Sono testimonia della Fondazione Ricerca Fibrosicistica, che è una onlus che si occupa di ricerca scientifica per questa malattia di cui sono affetta dalla nascita perché è una malattia genetica e stiamo cercando di finanziare un importante progetto di ricerca che è il Task Force Fibrosis, che è in studio al Gazirini di Genova. Io ovviamente sono venuta a testare alcune modifiche sulla vettura, la gara è andata comunque benissimo e siamo sempre presenti sia in gara sia anche per sostenere la ricerca. Per il 55esimo anno rinnoviamo la tradizione di un qualche cosa che per Popoli ormai è un pezzo di storia, ne andiamo fieri e siamo orgogliosi e speriamo per il 2018 di poter avere la titolarità del Camionale Italiano perché Popoli come percorso, come concorrenti e come città tutta merita questo titolo.